Entra la corte, esamina il caserio, e gli domanda se si era pentito. Cinque minuti mi avessero dato, un altro presidente avrei ammazzato. Lo conoscete voi, questo pugnale, sì lo conosco, c'ha il manico a rotondo, nel cuore di Carnot l'ho penetrato a fondo. Li conoscete voi, vostri compagni, sì e li conosco, io son dell'anarchia, caserio fa il fornaio e non la spia. Grazie.